Silvio Berlusconi riposi in pace è la prima frase che bisogna dire in case del genere. Un mio amico proprio poco fa, prima di fare il collegamento con Tenne, mi ha scritto una frase che credo che sintetizzi bene un sentire un po' comune. Quelli che gli si contrapponevano, mi ha scritto, non erano me, quelli che sono arrivati dopo sono peggio. Io credo che ci sia un sentire comune con la morte di Silvio Berlusconi che fa pensare a quello che è avvenuto in Italia negli ultimi 40 anni, perché Berlusconi è stato un innovatore sicuramente sia nel campo dell'impresa, il suo patrimonio, ma non soltanto il suo patrimonio, il suo impero economico non è ben chiaro neanche dove possa arrivare, ricordando soltanto media, fette e fine. Un innovatore anche nel sistema calcistico e pensiamo a quello che egli ha fatto con il suo Milan. Poi la discesa in politica, la discesa in politica ha lasciato il segno nel bene e nel male, comunque la si possa giudicare ed ha rappresentato nell'ambito del nostro paese un'inevitabile contrapposizione che oggi va letta e va riletta bene, che nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, nei prossimi anni andrà capito bene su come egli ha posizionato gran parte del ceto moderato italiano. È stato scritto, è stato già detto in queste ore, subito dopo la diffusione della notizia della morte di Berlusconi, che cambia tutto. Finisce un'epoca, sicuramente finisce un'epoca e finisce un momento della vita politica che ha visto centrodestra e centrosinistra su sponde opposte. Quello che avverrà nello schieramento, che è lo schieramento ovviamente su cui Berlusconi stava e che è lo schieramento di centrodestra, ma con una posizione moderata e che dava anche per certi aspetti tranquillità e sicurezza allo schieramento opposto di centrosinistra, non lo sappiamo. Sicuramente è finita un'epoca e noi non sappiamo qual'epoca comincerà.